l'argomento che andiamo a trattare oggi è possiamo parlare di adozione di un metodo nel bodybuilding noi sappiamo che la nostra disciplina è una scienza quindi si fonda su delle regole scientifiche è indubbio che un trainer debba conoscere queste regole ma è parimenti in dubbio che la realtà che si ritrova a fronteggiare necessita anche di un adeguamento di quelle regole dove io parlassi di metodo parlerei di una strada prestabilita che ha un leitmotiv che dovrebbe in teoria essere lo stesso ma appunto stiamo parlando di teoria cosa intendo dire che sicuramente la lacuna più grande che incontriamo nel nostro sport è la bipartizione tra il mondo teorico quindi di chi adotta una strategia prestabilita per tutti uomini donne e vari somatotipi e contemporaneamente di chi invece si fonda esclusivamente sulla pratica senza conoscere la teoria delle due luna quello che intendo dire con questo video è che quando si parla di metodologia possiamo semplicemente asserire che un qualcuno abbia dei postulati su cui fonda il proprio modus operandi esempio credo molto nel rispetto della salute della donna e nel fatto che l'allenamento così come la corretta alimentazione costituiscano buona parte se non nell'esclusività del risultato ove invece altri evidentemente adottano altre strategie però di lì a parlare di metodo me ne guardo bene perché perché sappiamo bene che ogni caso è a sé e che se pretendessi di allenare e trattare allo stesso modo tutti quanti starei sicuramente sbagliando ricordiamoci che le regole esistono ma bisogna sapere quando e come adattarle quindi metodo metodologia protocollo sono dei termini che sarebbe meglio non sentire un saluto